Per ottimizzare il funzionamento del sistema E-Tech Plug-in Hybrid, Renault ha sviluppato un cambio automatico specifico. È il punto centrale del sistema a cui sono direttamente collegati i motori elettrici e il motore a combustione interna. I cambi marcia avvengono automaticamente e al momento giusto per adattarsi al vostro stile di guida e a tutte le impostazioni, al fine di ottenere le migliori prestazioni della tecnologia E-Tech Plug-in Hybrid. Quando si rilascia il pedale dell'acceleratore, il motore elettrico smette di azionare le ruote, diventando un generatore elettrico per caricare la batteria di trazione. Il cambio automatico compatto è dotato di due modalità di guida. Modalità D permette di guidare con il freno motore, proprio come un veicolo a combustione interna tradizionale. Modalità B potenzia la frenata rigenerativa, quindi aumenta il freno motore. Ideale in città e negli ingorghi, regolando la pressione sul pedale dell'acceleratore è possibile gestire il modo di rallentare del veicolo.